Alla luce dei sempre più numerosi contagi da Covid-19 nel Terramano, il Sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, chiede che l'ospedale Mazzini venga eccezionalmente protetto e blindato, sia dall'utenza quotidiana che al suo interno, per evitare che il coronavirus possa infettare il personale medico e sanitario. Se ciò avvenisse, sarebbe una vera catastrofe in questo momento di emergenza. Sindaco, che cosa chiede per l'ospedale di Teramo? Il nostro ospedale e tutti gli ospedali in questo momento di grandissima emergenza vanno assolutamente blindati e protetti in modo assoluto. Siamo in una fase in cui ormai l'emergenza è piena, soprattutto abbiamo il numero di contagi che sta crescendo. È importante che siano messi in sicurezza, questa è una responsabilità che grava sia sulle istituzioni ma anche sui cittadini, su di noi. Intanto sulle istituzioni che devono dotare, ed è assurdo che ci possa essere una carenza all'interno degli ospedali, tutte le strutture ospedaliere, la nostra ASL, le ASL del territorio, dei dispositivi di protezione. E poi spetta anche a noi, spetta anche a noi, noi cittadini, cercare di evitare il più possibile, laddove non sia necessario, vitale, l'accesso nelle strutture ospedaliere, nel nostro ospedale, che è il presidio fondamentale e che oggi dobbiamo proteggere perché è il presidio che ci consentirà di uscire da questa situazione di grande difficoltà. Ci sono buone notizie per gli asili nido. L'assessore comunale Andrea Core ha assicurato che verranno rimborsate le rette pagate per il mese di marzo, mentre il COC di Teramo si lavora senza sosta per rispondere alle chiamate dei cittadini e per organizzare la consegna a domicilio di ossigeno, viveri medicinali e pannoloni per gli anziani. Solo oggi sono arrivate più di 60 chiamate. I numeri telefonici stanno funzionando, i cittadini se ne stanno servendo, sicuramente se sarà necessario aumenteremo anche le linee che di fatto abbiamo già aumentato, una seconda linea fissa e una linea cellulare. Siamo lì a disposizione per cercare di dare risposte e per evadere qualsiasi dubbio che i nostri concittadini possano avere. Sicuramente questo COC adesso ha una conformazione in funzione proprio dell'attività che viene richiesta, ma siamo nella condizione di poter cambiare in corso d'opera anche implementare il servizio sia di telefonia e sia di efficienza e di risposta, efficacia della risposta da parte dei nostri collaboratori.